Musica Ora 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay, i campionati di calcio stanno entrando nel vivo, del loro interesse, il riferimento ovviamente per quanto ci riguarda da vicino riguarda il campionato di Serie C, sono iniziati i play-off ed il Pescara pur soffrendo, pur disputando una partita non bella per non essere severi, ha superato il primo turno contro la Carrese e tornerà in campo mercoledì alle ore 20.30 contro il Gubbio all'Adriatico per il secondo turno dei play-off. Parleremo ovviamente del momento dei bianco-azzurri, di questi play-off che hanno già riservato qualche sorpresa, poi analizzeremo anche altri aspetti, vado a presentare subito gli ospiti di questa puntata, ritrovo con piacere il direttore sportivo Fabio Lupo, buonasera direttore, grazie per aver accettato il nostro invito, un bentornato in questo studio anche al collega Walter Nerone, buonasera Walter, che seguiamo il giovedì su Rete8 nella trasmissione di Pierluigi Vasile. Grazie a Paolo Toro per essere tornato in questo studio, un altro collega Stefano Buda, buonasera Stefano, ben rivisto, Buonasera, un bentornato anche a Paolo Sinibaldi, buonasera Paolo, e un ben rivisto a Riccardo Clinco. Mancano all'appello due nostri compagni di viaggio come Totò De Leonardis e Francesco Di Francesco, che hanno scelto altre vie, purtroppo sono stati colpiti dal Covid, stanno bene, quindi torneranno presto tra di noi, ritrovo anche Andrea Costantini, buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Subito le novità della giornata, in sintesi? Beh, in sintesi, intanto l'orario della partita di mercoledì, Pescara è impegnato nel secondo turno dei play-off, Pescara-Gubbio si giocherà alle ore 20 e 30 all'Adriatico-Cornacchia, gara secca, ma in realtà tutte le partite, anche Entella-Olbia e anche le altre gare degli altri gironi, tutte alle ore 20 e 30. Poi, se diamo uno sguardo alla Serie A, oggi è stato comunicato all'esonero al tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, si va verso la soluzione interna, sarà Alessandro Agostini, il nuovo allenatore del Cagliari, promosso il tecnico della primavera. Poi, per quanto riguarda invece il campionato di Serie C, tornando ai play-off, un Pescara che avrà a disposizione due risultati su tre contro la squadra di Torrente e poi, se dovesse passare il turno, affronterà una squadra che uscirà da un sorteggio. Ebbene, in questo momento il Pescara non è testa di serie, affronterà una testa di serie, quindi una delle tre terze, Feralpi, Saloce, Sena e Palermo, oppure il Renate, la sostituta della Coppa Italia, oppure l'attuale migliore delle squadre dell'otto, che è l'Avellino, che però deve passare il turno e affronta il Foggia di Zeman. Questo, al momento, il quadro della situazione... Ecco, c'è una possibilità che il Pescara possa diventare anche testa di serie? Una possibilità remotissima c'è, oltre che passare il turno il Pescara, dovranno essere eliminate sia la Virtus Entella sia l'Avellino. In quel caso il Pescara sarà la migliore delle partecipanti e dunque sarà la quinta testa di serie. Ci aggiornare poi anche sul posticipo di Serie A? Che è sullo 0-0. L'Atalanta Salernitana si gioca da 18 minuti, 0-0 il parziale, a te. Allora, prima di iniziare a parlare di calcio giocato, vorrei che Fabio Lupo ci ricordassi così. Ti chiedo un breve ricordo di Mino Raiola, un personaggio del calcio che ci ha lasciato nei giorni scorsi. Ecco, per voi, uomini di mercato, Raiola è stato spesso un punto di riferimento, conosciuto ovviamente anche qui in Abruzzo, per avere Verratti, ma soprattutto anche per altri motivi. Fabio? Sì, chiaramente un operatore di mercato determinato, per usare un eufemismo. Una persona che sapeva ciò che voleva e ci arrivava in qualsiasi modo lui ritenesse opportuno. Poi, nelle pause di una trattativa, è una persona di grande umanità, in grado di scherzare, di svestire questi panni così di operatore di mercato senza scrupoli, perché poi dopo bisognava dirlo, che lui, quando di fronte a una trattativa, per difendere un proprio tesserato, era in grado appunto di adoperare tutte le strategie che riteneva opportune. E, come la storia dimostra, la maggior parte delle volte ha vinto lui questa trattativa. C'è qualche episodio nel rapporto con lui, qualche trattativa, non lo so, che non è andata a buon fine, oppure che è andata bene? No, ripeto, quando ho avuto a che fare con lui, qualche volta è andata bene, qualche altra volta è andata male, ma sai che quando entri con un avversario del genere, fra virgolette, sai ciò che ti aspetta e quindi metti in preventivo anche una sconfitta, anche quando pensi di avere la vittoria in mano. Andrea, c'è anche un episodio che è stato citato a livello nazionale che riguarda il Pescara. Sì, abbiamo peraltro ritrovato un po' una pagina internet relativa a quel fatto davvero singolare, relativo al mercato di genneo del 2013, quando il Pescara disputava la sua penultima stagione in Serie A, nelle ultime ore di calciomercato sfumò l'arrivo a Pescara di Paitin Casami, che era assistito da Mino Raiola, Furia Raiola, intitolava la gazzetta, saltato per colpa di internet questo trasferimento. Problemi per la PEC, per l'invio della mail, problemi relativi alla connessione nella struttura dell'hotel e quindi Mino Raiola su tutte le furie e salto l'arrivo di Casami a Pescara. E questo è un episodio che ha citato anche Gianluca Di Marzio su Sky, quando gli hanno chiesto c'è stata una trattativa che ha fatto infuriare Raiola e lui ha proprio raccontato questo episodio riguardante il Pescara, Pescara con il quale aveva buoni rapporti, lo ha detto anche il presidente Sebastiani. Assolutamente sì, diverse delle trattative che sono state intavolate nelle scorse stagioni, soprattutto quando il Pescara orbitava in Serie A o anche faceva stagioni ambiziosi in Serie B e non a caso il Pescara stesso ha voluto ricordare la figura di Mino Raiola con quella foto che ritraeva il presidente Sebastiani, Mino Raiola e l'attuale DS del Paris Saint Germain, Leonardo. Passiamo al calcio giocato, parto subito da Lupo, coinvolgo un po' tutti quanti. In questi play-off la sorpresa è stata l'eliminazione dell'Ancona e poteva esserci anche la sorpresa negativa del Pescara. Sì, onestamente non trovo una sorpresa l'eliminazione dell'Ancona che secondo me è arrivata attraverso un buon percorso, però obiettivamente rischiava contro una squadra come l'Olbia che comunque aveva raggiunto questo traguardo con entusiasmo senza avere nulla da perdere, comunque con una identità di gioco abbastanza specifica con giocatori anche di buon livello per la categoria e forse anche per la categoria superiore. Quindi dal mio punto di vista onestamente non mi ha stupito più di tanto, mi avrebbe onestamente molto stupito l'eliminazione del Pescara che infatti non c'è stata. Mi ha stupito la prestazione non positiva? Devo essere sincero, non mi ha stupito quel tipo di prestazione perché è una tipologia di prestazione che la squadra sta tenendo dall'inizio del campionato. È una squadra, io l'ho detto più volte, alla quale non si può rimproverare nulla sul piano dell'impegno, della professionalità, ci mancherebbe che sia chiaro questo, però è mancata sempre quella punta di cattiveria, di partecipazione agonistica tante volte, certamente non favorita dall'ambiente che c'è intorno alla squadra, parliamoci chiaro, insomma poco pubblico, un'atmosfera fredda, piatta e la squadra sembra quasi essersi adeguata a questa atmosfera così piatta ed è una squadra, per ripetere di nuovo questo aggettivo, emotivamente piatta, non ti dà mai la sensazione che prende in pugno la partita, la segue. Poi le qualità del singolo calciatore, perché comunque è una rosa di buon livello, ti consentono di tirare poi a casa, portare a casa il risultato. Walter, quando dicono da Auteri a Zauri non è cambiato nulla, sicuramente c'è un fondo di verità, no? Perché le prestazioni erano negative prima, anche se c'è stata anche qualche buona partita sotto la gestione Auteri, quindi vado subito alla domanda, cosa ti aspettavi da Zauri che non è arrivato? Non me ne voglia da Zauri ma non mi aspettava nulla di più, per due semplici motivi, uno Zauri per quel poco che ho potuto vedere non è l'allenatore che si inventa, chissà che, allora in quel caso chissà cosa si inventa questo, o Zeman di turno per usare un nome abusato a Pescara, chissà che si inventa questo, gli può andare bene e gli può andare male. Secondo me Zauri invece è il classico mezzofondista, il tipo che lavora, che imposta, che riflette, che medita, quindi onestamente non mi aspettavo grandi colpi, certo anche me a un certo punto, diciamo a 90 minuti dalla fine, il terzo posto sembrava quasi dovuto, non era solo, come dire, non era solo nella disponibilità di Pescara, però il punto dolente è appunto quello di cui si diceva adesso, una squadra che non ha mai, dico mai in 38, adesso sono 39 partite, non ha mai dato la sensazione, tranne 20 minuti con il Montevarchi, che non mi pare una referenza altissima, di poter gestire una partita, controllare l'avversario e decidere come e quando colpi. E allora come sono spiegabili le buone prestazioni offerte a Modena e in casa con il Cesena, sono ovviamente situazioni sporadiche. L'avversario, l'avversario che ti fa giocare, ma di personalità più che di testa direi io, l'avversario che ti fa giocare, siccome delle qualità ci sono qua, giocatori di livello per la categoria, forse un paio anche per la categoria superiore, ci sono. Quindi un avversario che ti fa giocare, che non ti tratta da serie C, probabilmente ti consente di far vedere qualcosa. Perché anche con la Reggiana, paradossalmente sì, poi ovviamente dipende dall'avversario che trovi, però vorrei dire, anche con la Reggiana il Pescara ha fatto una bella partita e con Lentella in casa, che non a caso, diciamo, queste migliori partite appartengono a tutti gli incontri con le migliori, le prime della squadra, cioè le uniche che non sono venute qua a subire. In pochi secondi ha detto questo Zauri a fine partita. Io mi prendo di buono quello che ho detto alla fine, cioè il passaggio del turno, che è la cosa più importante. Da quando sono arrivato, l'ho detto ai ragazzi, cercherò il vestito migliore per ogni partita. Anche a costo di essere un po' bruttini non fa niente, c'è l'avversario che gioca bene al calcio, l'abbiamo visto, quindi loro hanno fatto la loro partita, noi abbiamo fatto la nostra, perché dopo a fine ogni partita si andiamo a parlare sempre delle stesse cose, ma il Pescara ha creato. Il Pescara non ha subito e basta, il Pescara ha creato. Ha subito anche le situazioni, sì, sono d'accordo con te, però ogni volta sembra che noi dobbiamo vincere tutte le partite 10-0, non succederà mai, cioè è impossibile, te lo dico già adesso. Quindi abbiamo sofferto, ti ripeto, sì, però non ho visto una squadra morta e l'altra viva. Due squadre di Stasano giocata, chiaramente la loro partita deve essere diversa dalla nostra, perché comunque noi potevamo anche pareggiarla, come si è visto, quindi probabilmente loro hanno dato una cosa in più dal punto di vista di atteggiamento, cosa che non deve succedere, perché stiamo giocando una bella fetta di campionato, sarò contento solo io e la squadra ovviamente, ma io mi prendo il risultato che è la cosa più importante nel calcio, quindi andiamo avanti così. Scusa, a proposito di condizioni di giocatori, Ferrari, qualche problema fisico o scelta te? Sarei un folle se lasciassi fuori Ferrari, certo, certo, ma ha un problema fisico, tanto è vero che ha provato a scaldarsi e è rientrato subito perché non stava bene. Ferrari è il nostro bomber, è il nostro attaccante che ha fatto differenza fino ad oggi, ma oggi insomma c'è da fare i complimenti a questo ragazzo che ha fatto due gol. Andiamo subito ad Andrea Costantini, che novità c'è Andrea? Che la Salernitana si è portata in vantaggio a Bergamo, 1-0 rete di Ederson, dunque continua la striscia per il momento molto positiva della squadra di Nicola, a te. Allora Fabio, questo atteggiamento soft della squadra a livello mentale, anche a livello tattico, è figlio soltanto, come dicevi tu, di una condizione ambientale, però potrebbe sembrare un alibi per la squadra. C'è anche questa situazione, però ci sono tante altre problematiche. C'è anche questo ambiente che sicuramente non giova a creare le condizioni ideali da un punto di vista psicologico per rendere, però certamente c'è anche una trasmissione del messaggio che probabilmente soprattutto con Auteri non arrivava, o perlomeno sembrava non arrivasse perché la squadra non sembrava recepire nella maniera positiva ciò che l'allenatore magari chiedeva. Tanto è vero che io, a differenza di Walter e di qualcun altro, con Zauri mi aspettavo un saltino di qualità perché la squadra ormai aveva trovato il vestito, come ha detto giustamente l'allenatore, adatto a quello di Zauri che ha sempre giocato in questa maniera qui, con 4-3-2-1. La sua Serie B la fece impostando in quella maniera, quindi mi aspettavo che la squadra, trovando un ambito più confagente a se stessa, trovasse anche un pizzico di entusiasmo. Invece non l'ha trovato, però speriamo che appunto lo stimolo dei grandi avversari sia in grado di dargli questa spinta emotiva. Che vi aspettavate voi, Paolo D'Azauri? Come novità, Paolo? Ovviamente una scossa ce l'aspettavamo un po' tutti e sembrava che potesse arrivare dopo le primissime partite, però ad oggi ne aveva l'era. Però anche contro il Grosseto, anche a Pistoia, forse a Pistoia è stata la migliore espressione. Ad oggi, perché all'inizio si poteva giustificare dicendo appena arrivato, con tutti i rischi che ci stanno quando uno si va ad insediare, però voglio dire ad oggi, dopo questo primo piccolo periodo, ma importante chiaramente per il cammino del Pescara, mi sembra che si continui nella continuità della gestione precedente, perché è sempre molto più simile l'atteggiamento in campo. In pratica almeno una novità ce l'aspettavamo. Qualche cosa sì, è che questo è indubbiamente mancato. Questo vi chiedo, che cosa vi aspettavate Stefano, ad esempio? Oggettivamente quando si cambia... Ho detto il portiere senza non la togliere la sorrentina, ci mancherebbe. Ma quando si cambia un allenatore, insomma, tre giornate dalla fine, è ovvio che non è possibile aspettarsi stravolgimenti da un punto di vista. Esatto, il problema è questo, è legato proprio al profilo dell'allenatore. Cioè nel senso, da Zauri non mi sarei aspettato una sterzata come poteva... come arrivò ad esempio con Oddo quando sostitui Barone. Quindi caratterialmente, dice. Ecco, non è nelle sue corde, diciamo, la figura del motivatore, dell'allenatore temperamentale alla Oddo, alla Pilon, con idee di gioco diverse, ma che vanno ad intervenire, che vanno insomma allenatori che entrano nella testa dei giocatori, che sono in grado di accendere quella luce che evidentemente, Euterri per un intero campionato, non è mai riuscito ad accendere. Paolo, tu già ti sei espresso ieri, vi ripeto un po' il concetto che ci hai illustrato. Sulla, sull'impatto di Zauri praticamente non c'è stato, cioè per adesso non c'è stato, dobbiamo augurarci che ci sia stato qualcosa nel... C'è stato un impatto di fortuna, che non è poco, perché la squadra è già almeno quella, no? Io ieri, proprio insieme a Andrea Costantini, più volte abbiamo parlato di questo aspetto, cioè la fortuna fa parte della vita, fa parte del calcio, nel calcio spesso è decisivo, spesso e volentieri, quindi se Zauri ha portato questa botta di fortuna, ci prendiamo questa, perché fa parte del calcio e ci può portare direttamente nelle fasi che contano nei play-off. Tu Riccardo che botta vuoi? Io vorrei vedere, onestamente, ad allenatore una squadra diversa. Vedo che quando parlava Fabio Lupo eri completamente d'accordo, è un pensiero che hai già espresso nelle precedenti. Sì, 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 assolutamente d'accordo con quello che hai detto direttore, totalmente. Però noi parliamo sempre dell'allenatore, ma dimentichiamo che in campo vanno loro. E devo dirti che la cosa che ieri mi ha indispettito, e uso questo termine, è che quando eravamo in svantaggio 2-1, solo Pompetti ha cercato di dare una scossa, gli altri erano, non ho visto lì, perdi, stai giocando una finale, fai qualcosa, invece siamo rimasti con questa flemma e questa cosa mi ha fatto molto pensare. Poi abbiamo pareggiato per un episodio, potevamo anche vincere, potevamo anche perdere la partita. Non dimentichiamo che sul 2-2 hanno avuto una palla importantissima, che era più facile buttarla e metterla dentro, è andata bene. Allora Andrea, vogliamo commentare i due episodi della partita di ieri, sono stati due episodi contestati rispettivamente dagli allenatori, partiamo dal gol del 2-1 della Carrarese, ci lo vuoi raccontare, poi sentiamo il parere degli amici. Siamo sull'1-1, c'è un rilancio, una spizzata da parte di Dumbia, che vince il duello aereo con il Lanes, poi Zappella che inizialmente protegge il pallone, e poi c'è questo contatto o non contatto con Dauria, finisce a terra Zappella, Ingrosso si distrae, pensa a protestare, Dauria con il pallonetto porta in vantaggio la Carrarese. E qui bisogna vedere se c'è... L'ingenuità di Zappella, Lupo? Sì, sicuramente la palla va coperta meglio, con più sicurezza, forse il portiere può guidare, può dire qualcosa, anche il suo compagno che è vicino, anche Ingrosso può dare qualche indicazione. mi sembra che sia stata troppo per scontare. Ecco, in queste cose qui, dico io, manca quella determinazione. Sto qui, sto a difendere una palla, do un calcio, in grosso, dico, do una voce, do qualcosa. Ecco, in queste situazioni qui mi sembra che manchi quella nota agonistica, come dicevo io, che è la partita. Perché anche qui lui va a terra già ancora prima del contatto, e non te lo puoi permettere una partita così. Quindi Walter, da ex arbitro, hai ragione al tuo ex collega? Temo che abbia ragione, temo per gli interessi pescaresi, temo che abbia ragione perché il contatto di spalla, insomma, ne fischieremmo 45 partite, il contatto sulla mano. Mi par di vedere il piede di Zappella, perché secondo me si predisponeva a giocarla la palla, non a mandarla via, che va a contatto con il sinistro di Dauria, che poi dopo, non avendo compagni nel giro di 30 metri, si inventa l'unica cosa che può inventare. Anche lì, in grosso, c'è una bella quota di responsabilità, perché se lo va a chiudere invece di girarsi, non segna mai, non segna mai. Questo è il problema. Siete tutti d'accordo? Però qualcuno ritiene che possano esserci gli estremi per la punzione. No, io voglio aggiungere quello che ha detto Fabio Lupo poco fa, perché sicuramente è tutto vero quello che si dice di Zappella, anche del tocchettino che ci sarebbe stato di Dauria. Però lì una piccola ma importante parte di responsabilità ce l'ha anche il portiere, perché il portiere lì lo deve guidare, deve urlare, qualcosa deve dire. Secondo me. Io oggi credo che questa azione è la fotografia proprio di uno dei punti deboli del Pescara, che è oggettivamente la croce di un intero campionato, che è la difesa. Non si capisce dove va il grosso. No, perché anche prima, nell'azione prima, c'è Ianes che sbaglia il tempo d'uscita, viene anticipato e quindi la palla filtra. Zappella molle nella difesa del pallone, il grosso si ferma e non va ad aggredire. Quindi non è questione di esperienza, è questione proprio di cattiveria che manca, no? Eh sì, ma... Diceva bene Paolo, anche il portiere lì. Il portiere si può far sentire. Zappella di suo può capire che stai alla finale play-off, quella palla non la giochi ma la butti, anche in calcio d'anco comunque la butti, non ti preoccupi di giocarla ma la butti via. Dopodiché, diciamo così, nel cumulo di errori, per me è assolutamente imperdonabile quello che fa in grosso, che invece di accompagnarlo fuori, verso la linea di fondo campo, si gira e va a cercare chi e cosa. Se lui gli sta un metro e mezzo... Guarda, mi ricorda il gol, quell'altro con Drudi, quello del pareggio della Carrarese, che è lo scavetto della settimana scorsa. Con Limolese. Con Limolese. Mi ricorda quella situazione, cioè i difensori che guardano, che non riesco a capire quale scuola di pensiero lo preveda, i difensori che guardano l'avversario. Perché qui, se in grosso, lo accompagna solo, non deve fare nulla. D'Aurio, come si chiama, lì è l'unico avversario in 40 e in 30 metri di campo. Che fa? Può aspettare che arriva uno a rimorchio, ma fa... Ha avuto ragione l'arbitro, mi sembra di capire. Secondo me sì, adesso per fortuna non è... Andiamo a vedere invece, sulle proteste della Carrarese, il gol del pareggio di Cernigoi. Hanno reclamato un presunto fallo di mani, no Andrea? Sì, siamo al 79esimo, Pontisso va al cross dalla sinistra e Cernigoi la prende talmente in maniera strana che Vettorel viene sorpreso e prende un gol su una palla molto lenta, va in controtempo. La sensazione è che la prenda con la spalla petto più che con il braccio. Però... Non regolare comunque. Rivederlo da... Sinceramente anche in diretta, dal vivo, mi era sembrato regolare. Anche qui, onestamente, non... Magari all'Izzabello. Ma per le prove vibranti le proteste... I gol all'Izzabello erano vibranti anche perché rappresentava il venire meno di un risultato. Abbiamo temuto un fallo di mani di Cerrone. Anche tra i difensori delle Carrese vedo solo un giocatore che protesta, che fa il gesto del braccio e poi c'è stato Di Natale che si agisce a domande. Sì, sì, può essere però... Diciamo che più la stranezza della traiettoria del pallone che fa pensare, più che poi il gesto in sé per sé, perché io penso che Cernigoi vada per colpire di testa, sbaglia la valutazione e la palla gli finisce sulla spalla. Perché è l'unica reale dinamica che possa spiegare quello che abbiamo visto. Sì, qua, solo davanti... Sì, tanto pallone... Criticato Cernigoi, però è stato decisivo ieri, Paolo. Che cosa? Cernigoi. Tanto criticato Cernigoi. Sì, sì, alla fine è la nota più positiva, diciamo. No, ma siccome il pallone scendeva, se l'avesse preso più col braccio si sarebbe visto anche un po' scivolarlo. Invece, secondo me, l'ha preso tra la testa e la spalla e quindi è stato anche un po' fortunoso perché il difensore che gli sta davanti non ci è arrivato. Lui l'ha colpito bene. Allora, Gianrico, si può dire che questo episodio compensa il fallo presunto di Mani di Ferrari nella gara di fermo. Con quei due punti il Pescara avrebbe saltato questa partita? Se vogliamo fare questo parallelismo. Che livello è stato raggiunto in questo campionato di Serie C? Parlo a livello tecnico. Stanno peggiorando un po' le cose? In generale? Sì. Ma la Serie C è diventata un campionato un pochino dispersivo, no? Perché... Dicevi prima, nel girone nostro ci sono due battistrade. Di solito ogni girone ogni girone ha sempre quelle due battistrade quelle due squadre che dominano il campionato poi ce ne sono altri due e tre che comunque si assestano in una posizione alta di classifica e poi tutti intorno c'è un gran marasmat è vero che accedono poi anche ai play-off squadre non di eccesso livello che anche se poi magari la sorpresa ci può stare sempre. Obiettivamente... comportano più delle problematiche a livello mentale? No, io penso ma io dico sempre una cosa sempre detta Cioè è più facile giocare la partita secca oppure andate e ritorno? Ma guarda la cosa fondamentale è stare bene fisicamente quando stai bene con le gambe allora puoi andare a giocare fuori casa dentro casa non è quello spesso si fa non è il discorso ma in queste partite conta di più l'esperienza così io tante volte per autoironia dico se contasse l'esperienza giocherei ancora anch'io invece no ci vogliono le gambe per giocare soprattutto queste partite qui perché se sbagli rincorri perché se c'è un errore lo puoi rimediare quello che conta moltissimo è la condizione è la condizione fisica quella che fa realmente la differenza secondo me in queste partite qui che poi nella fase cruciale della partita ieri Zauri ha inserito i gioni ha inserito Giambò a posto di Deriso che ha più esperienza quindi ha ragione lucro l'esperienza conta fino a un certo punto ha messo dentro Rauti che è entrato bene lo stesso Zita altre volte ha fatto peggio insomma questa squadra fisicamente lo dice anche Zauri in conferenza stampa ha delle problematiche proprio per degli infortuni un po' anche per la condizione però giocando ogni 4 giorni sarà difficile ad esempio recuperare Ferrari già per mercoledì credo che sia il problema il problema dei problemi del Pescara recuperare l'unico uomo che in termini adesso non ce ne voglia Cernigoi che ieri ha raddoppiato il suo quoziente di marcatura nella diciamo nel storico però voglio dire sul piano delle garanzie a partita al primo minuto Ferrari a cui in questa categoria è una è una certezza alla quale non puoi rinunciare facilmente e tra l'altro in una squadra che al netto delle invenzioni di Clemenza in termini realizzativi ha avuto degli episodi una volta uno una volta l'altro ultimamente Drudi ma non ha gente come dire che abbia una storia di gol decorosa nella partita con il Gubbio c'è da sperare solo in Clemenza che insomma deve avere dei precedenti con con questi i prossimi due temi saranno questi il Pescara soffre soprattutto la mancazza di un leader nella squadra e poi ci sono problemi ancora a centrocampo perché Zauri non ha ancora inquadrato la posizione dei tre ne parleremo tra poco dopo la prima fase pubblicitaria tra poco Notti d'oro in corso Umberto Primo 310 a Montesilvano ha aperto un nuovo store di oltre mille metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali Dorelan Dorsal Simmons Manifattura Falomo inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi Noctis Le Comfort Samoa da Notti d'oro conviene Notti d'oro Corso Umberto Primo 310 Montesilvano Parlare con i tuoi amici sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione il tuo lavoro rispondere con sicurezza ai loro dubbi tutto questo è più vicino di quanto pensi perché i professionisti dell'udito maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene ritrovare il piacere di ascoltare è semplice e tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport prodotti altamente mirati per atleti professionisti un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale questa è la DZ Insurance Sport Zampa corta assicura lo sport Salve sono Emilio De Florentis l'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio da quel momento da 72 anni la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara la sede in via Spaventa nella zona dello stadio triatico Emilio e Alfredo De Florentis 085 66 021 Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali interni ed esterni in tutta Italia realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere ristrutturazioni chiavi in mano attività commerciali impianti sportivi impianti idrici ed elettrici arredamento su misura controsoffitti e cartongesso isolamenti termici ed acustici strutture esterne per gotende e tetti in legno arredo urbano in genere su tutti i social trovi sempre online le nostre novità contattaci su timerevestimenti.it Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500 500X Panda Tipo ed il ritorno del mito la nuova 124 Spider e poi lancia Abarth e veicoli commerciali Inoltre la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara con ingresso in via Raffaello 30 aperti anche il sabato mattino e pomeriggio Buonaventura 34 Andrea a Bergamo sempre Sardinitana E' finito il primo tempo è finito il primo tempo Sardinitana sempre avanti 1-0 gol di Ederson a te Fabio quanto ti sorprende questo momento della Sardinitana? Sì ovviamente c'è stato un momento in cui sembrava veramente che fosse lontana da ogni possibilità è vero che Nicola è un maestro in questo tipo di imprese perché riesce a creare un'empatia con la squadra più sul piano morale direi addirittura che sul piano tattico e ti entra dentro e ti entra veramente dentro a argomenti diciamo fra virgolette anche personali per entrarti dentro e riesce a trovare questa sintonia con la squadra la squadra ha tutto veramente oltre quello che può dare anche se poi tatticamente non puoi innamorare di una squadra di Nicola però raggiunge risultati ha sfiorato già altre salvezze la raggiunta a Genova la raggiunta a Crotone a Torino insomma è un allenatore che ha questa grandissima capacità e riesce a portare la spessore Stefano allora questa storia che manca un leader nella squadra può essere un motivo valido anche sull'atteggiamento generale assolutamente insomma mi sembra un dato oggettivo che è il fatto che è una squadra che ha un deficit di personalità evidente diciamo che anche nella anche nella costruzione del gruppo evidentemente c'è questa c'è questa laguna e lo si vede insomma anche poi nei momenti in cui la squadra è chiamata in qualche modo a soffrire a compattarsi magari per difendere il vantaggio per recuperare insomma c'è sempre insomma un approccio piuttosto ecco molle che lascia talvolta interdetti perché poi d'altronde le partite le squadre che hanno vinto i campionati le hanno vinte anche per 1 a 0 anche soffrendo e la gestione dei momenti purtroppo è la gestione dei momenti dove c'è appunto l'uomo l'uomo di esperienza il leader l'allenatore in campo che in qualche modo riesce anche a guidare i più giovani insomma quello che un po' riesce a fare drudi è riuscito a fare drudi per un certo periodo con i compagni di reparto non sempre ma diciamo che è una forse anche delle ragioni perché per le quali insomma quando c'è lui in campo un po' più di Walter su drudi devo sentire te perché hai ragione quando dici che il leader non dipende dall'età ma soprattutto da quello che fa in campo e che dice ai compagni mi viene in mente io non non l'ho avuta quell'esperienza mi viene in mente mi vengono in mente i boy scout no il leader lo fa il più vecchio il più grosso adesso c'è sta nomea che drudi diciamo non mi piace ma hai detto tu non è che la nomea tu ti sei espresso no no ma io non esprimo neanche un'opinione mia guardo quello che succede negli ultimi cinque anni il Pescara ha appoggiato la difesa su alcuni chiamiamo tra virgolette beati loro perché insomma se glielo dico io che sono vecchi qualcuno può anche sorridere su alcuni diciamo esperti di categoria secondo me non è azzeccato uno per due motivi anche Campagnaro a cominciare da Campagnaro a cominciare a cominciare da Campagnaro Campagnaro la cui storia non è che la posso discutere io diciamo non mi faccio ricoverare in TSO tu hai uno come Campagnaro ti aspetti che ti sbocci qualcuno ricordate il Pescara degli anni 80 no di cara perché è esploso un po' è cresciuto è cresciuto perché si è trovato in un contesto che l'ha aiutato a crescere in quella squadra qualcuno è venuto su perché è arrivato zio Leo Junior che ha aiutato tutti adesso io faccio perché faccio quell'esempio credo che difenda da entrambe le parti allora perché è un esempio lontano e non tocco nessuno diciamo dei contemporanei quello che non è successo negli ultimi anni il Pescara ha avuto negli ultimi 4 anni sempre squadre tecnicamente quindi non stai discutendo le prestazioni di Campagnaro stai discutendo la valorizzazione non ha svolto il ruolo che tutti aspetti così come non l'hanno svolto né Scognamiglio né Drudi è stato un terzetto da questo punto di vista secondo me però ora siamo in Cile non fallimentare dico ora siamo in Cile che dovrebbero essere i pascoli di Drudi io penso che se Drudi non avessi avuto i problemi fisici che ha avuto avrebbe stato un valore aggiunto se giochi a pallone il minimo che ti può succedere ti fai un po' male però il bilancio dell'anno qual è? per l'ennesima volta hai la difesa che è la peggiore del suo comparto non del campionato chi è d'accordo con Walter? vediamo chi alza la mano nessuno nessuno è d'accordo con te Walter meno male ma io però siamo tutti d'accordo che non c'è un leader non c'è un leader quindi più o meno siamo d'accordo su questo non su Drudi è la peggiore difesa delle prime dieci ditemi voi non su Drudi però sono fatto io credo che voi state un po' sopravvalutando questi giocatori che io rimango dell'idea no restiamo al reparto difensivo al reparto difensivo sono abbastanza scarsi giocano male cioè un giocatore tu lo devi valutare per quello che vedi non per quello che ha fatto o che farà giocano male non chiudono ma giocano male io le partite non so ci siamo onesti io lo dico perché lo vedo giocano male giocano male a centrocampo giocano male in difesa questo è appurato stiamo parlando però delle qualità ma le qualità sono scarsi ma sì ma perché sì perché per quello che ho visto quest'anno il reparto difensivo in toto scala tutti gli addetti ai lavori ritengono però che le qualità dei singoli del Pescara sono almeno per quanto riguarda questo campionato questi quattro difensori dove andranno nella vita lo vediamo tra qualche anno Fabio tu mi piace sempre sorrire un po' quando si parla di questa leadership allora cosa vogliamo dire manca il leader mi sembra sempre un pochino io ho sempre detto che il leader sia un po' una figura mitologica nel calcio è un falso problema ma sì perché allora la Juventus dovrebbe ancora voglio dire di leader ne ha quanti ne vuoi i Chiellini Bonucci lo stesso De Ligt che sta uscendo fuori insomma Di Bala a modo suo è un leader eppure ha le sue difficoltà quest'anno ha dei problemi io penso che ridurre tutto secondo me il discorso di leadership io lo trovo sempre un po' un esercizio così che ci sta che così però che secondo me non c'entra il problema il problema secondo me sono più generali sono problemi spesso io parlo a livello generale spesso magari sono problemi gestionali del gruppo io credo molto per esempio nella gestione da parte dell'allenatore della società più che della leadership del singolo del singolo calciatore che sicuramente che sicuramente può aiutare determinante perché abbiamo visto abbiamo visto vincere e vediamo tuttora vincere squadre che poi se vogliamo il Milan anzi ha Ibrahimovic fuori dal campo poi dentro dal campo non è che ha questo leader eppure sta vincendo un campionato la stessa la stessa Inter ha un leader tecnico che può essere Brozovic o anche lo stesso Gieco ma non è che rispetto a quel tipo di livello lì abbia questo leader che si staglia su tutti quanti io credo che sia sempre un discorso di componenti che va dalla componente tecnica alla componente gestionale all'allenatore alla componente gestionale della società ci sono tanti aspetti che vanno e di fronte ai quali la singola leadership non riesce a incidere fino ad un certo punto come dimostra la Juventus di quest'anno adesso non cito un caso così ricordo di raggiungere qualcosa no volevo dire parliamo di un giocatore di clemenza che ti alterna ogni tanto delle giocate e poi scompare fa delle prestazioni disarmanti quindi un allenatore che allena io vengo anche nel tuo discorso ma un allenatore che deve allenare clemenza se che tu lo metti in campo ha fatto delle prestazioni inguardabili dove ti alterna magari la settimana dopo delle giocate tu allenatore cosa fai? lo fai giocare non lo fai giocare perché non c'è continuità non c'è un giocatore se non avessi avuto questa discontinuità avrebbe fatto altre categorie per le qualità tecniche del calciatore allora tante volte per accontentarti di avere questo giocatore in categoria devi accettare anche questa discontinuità perché se non avessi avuto questa discontinuità non l'avresti avuto di questo giocatore lui dice giustamente gli addetti ai lavori ne parlano bene ma io ti dico la verità per quello che ho visto quest'anno faccio un esempio per farmi capire ieri Foresta un illustre sconosciuto nella Carrarese quando giocava si vedeva che ha qualcosa più degli altri noi tranne Pompetti e Ferrari ti dico i suoi giocatori che hanno fatto vedere qualcosa di più qualcosa anche in termini di volitiva di voglia gli altri sono di un livello medio ma io sono d'accordo con te però va al di là della qualità tecnica del giocatore questo è un altro aspetto no? ma caspita la qualità tecnica viene fuori a un certo punto tu puoi essere quanto vuoi ma se hai qualità tecnica se tu sei un difensore e ti fai andare via gli uomini come vediamo andare via noi tutta questa qualità tecnica onestamente non la vedo con tutto l'interno per quanto riguarda i problemi a centrocampo Paolo ne parlavamo anche durante lo stesso discorso pubblicità Derisio Pompetti Pontisso Auteri nella sua gestione aveva trovato una collocazione probabilmente più ideale nelle caratteristiche dei singoli sì probabilmente sì era forse il reparto doveva lavorato meglio tra virgolette il reparto che è cambiato a gennaio perché Pontisso e Deriso sono arrivati con la campagna di gennaio secondo me ovviamente i tre centrocampisti di oggi sono di livello per la categoria forse anche potrebbero ambire anche qualcosa di più e vedo anche bene oggi come oggi forse non so se il ruolo che è stato affidato a Derisio perché mi sembra che pur non essendo tecnicamente all'altezza di Pompetti diciamo nello smistamento nei lanci però secondo me abbina bene la copertura con come devo dire con l'appoggio sicuro sbaglia poco recupera quindi secondo me in quel ruolo dei tre ma il problema del pescarade è la creatività del centrocampo che non inventa come dice giustamente cioè vanno bene i passaggi cambi di gioco passaggi laterali passaggi orizzontali in verticale difficilmente si arriva a più di due o tre passaggi consecutivi quindi quella è l'unico creativo è Pantetti però ricordiamoci sempre che siamo in Serie C non è che le altre squadre offrano prestazioni a livello tecnico a fare un po' di spessore scusa e chi resti in generale però non è tutte le lacune che ha il pescato ce l'abbiamo negli occhi alcuni flash Pompetti Clemenza Clemenza Pompetti due o tre azioni finite anche in gol ce l'abbiamo negli occhi la creatività la puoi vedere anche in Serie C non è che devi aspettare non è nemmeno logico che con le squadre con cui ho sofferto il pescale quelle diciamo di medio livello fra cui anche la Carrarese cioè che si dispongono con una diciamo chiusura una copertura difensiva tutti ti vai sempre a infrangere e trovi un'enorme difficoltà per cercare di scardinare è un po' di sesso palla rispetto a noi ieri allora Fabio un po' di sesso palla su questo reparto dipende dalle caratteristiche dei singoli che sono tutte diverse però c'era il problema play Zauri ha provato prima Pontisso che nasce play adesso c'è il derisio però si sacrificano un po' Pompetti sull'esterno Pontisso che ancora trova una giusta collocazione nascono lì molti problemi si un po' di problemi nascono lì perché secondo me sono tre giocatori un pochino monopasso cioè sono giocatori che difficilmente strappano sono giocatori sono tutti e tre che hanno giocatori che amano avere la palla fra i piedi per giocarla e non per andare ad attaccare uno spazio e quindi questo crea inevitabilmente anche nella fase di possesso fisiologicamente anche qualche distanza di troppo perché se non ho mai un centrocampista che mi fa un movimento senza palla in profondità ma tutti i movimenti in contro ricevere si può creare una frattura nella quale poi gli avversari riescono a trovare il tempo e spazio per coprirsi ed poi andarti anche a ripartire e poi quando ripartono le squadre avversarie magari anche con un passo diverso possono far male e magari mettere in difficoltà la difesa dove singolarmente secondo me ci sono buoni giocatori però tante volte tante volte questa questione di distanze che c'è fra il centrocampo e il reparto li mette li mette in difficoltà tante volte sono costretti a difendere in spazi aperti questo crea problematiche ed accentua magari dei difetti che magari ci sono i giocatori però il grosso e Drudi è una signora coppia in serie C il grosso l'ha dimostrato le alternative sono molto buone perché anche lo stesso Ianes è un buonissimo giocatore sugli esterni in zappella sono buoni giocatori però secondo me il problema del centrocampo è un problema che in qualche modo poi si va a riverberare un po' su tutti su tutti gli altri ma per una questione non di valore del singolo calciatore perché sono tre buonissimi giocatori ma per una questione di caratteristiche e anche in avanti c'è qualcosa da rivedere sulle posizioni non tanto sull'impiego di quello quel giocatore no ma le posizioni per certi aspetti per certi aspetti sono anche quelle corrette perché tutto sommato Dursi un giocatore abituato per questa ragione Auteri lo aveva portato abituato a giocare fra le linee in un 2-1 no mi riferivo più alla posizione di Clemenza sì Clemenza però Clemenza comunque da lì riesce a trovare delle giocate che di qualità e poi ripeto è sicuramente un giocatore discontinuo ma se non fosse stato discontinuo non si sarebbe trovato in serie C quello che potrebbe essere forse utilizzato con uno scaglionamento magari anche diverso ma questo chiaramente sono cose che l'allenatore deve vedere e che ha una percentuale realizzativa più così un'incidenza di pericolosità come si dice potrebbe essere Rauti secondo me è un giocatore che ha delle qualità anche stando vicino a una punta strutturata come Ferrari o lo stesso Cernigoi è un giocatore che secondo me potrebbe fare meglio per se stesso e per la squadra Cernigoi chi vuol parlare Cernigoi Paolo fortunato nel senso che torniamo a dire la stessa cosa è che per via dell'infortunio di Ferrari non ha certo che i gol poi fanno parte del bagaglio dell'attaccante però comunque non ha fatto una grande partita se dobbiamo essere onesti fino in fondo si è trovato in quelle due occasioni bene nella prima praticamente molto lasciato libero nella seconda io ho qualche dubbio francamente anche se tutti quanti insomma hanno detto che la palla era regolare per me era quasi regolare perché indubbiamente quando intervieni in quel modo ci può stare che l'arbitro a velocità naturale dia il fallo di braccio più che altro per me la prestazione è buona per i gol che ha fatto ma al di là di quello voglio Ferrari che difficilmente Andrea sarà in campo mercoledì sì così ha lasciato intendere Zauri perché insomma va valutato però un calciatore che prova a scaldarsi durante il secondo tempo col pescata che è sotto e non riesce a portare avanti il riscaldamento fa pensare che già una convocazione e il fatto che vado in panchina possa essere già tanto è difficile che nel giro di un paio di giorni la situazione sia così migliorata da poterlo addirittura rischiare dal primo minuto quindi insomma è probabile la conferma di Cernicoi riduce peraltro dalla doppiesta ragazzi l'attaccante deve fare gol ha fatto due gol ma anche solo nell'entusiasmo è un giocatore che è stato anche abbastanza triticato da tutti compreso da me c'è anche l'opzione Rauti centravanti però questo ragazzo entra in campo fa due gol che il suo lavoro 8 in pagella 10 ha fatto due gol ma scherziamo non si può triticare anche se in tutta la partita non ha toccato la parte ha fatto due gol ha fatto non il suo dovero molto di più è come il portiere che diceva un tiro e la para e lui ha fatto gol e il suo lavoro è quello poi che non torna che non riempi ha fatto gol ne ha fatti due di mano di petto va bene tutto ha fatto gol un grande applauso a questo ragazzo e io lo confermerei addirittura sull'onda del fatto di fatura anche se Ferrari al di là perché è sull'onda dell'entusiasmo che dobbiamo anche cercare di trovare una soluzione anche se Ferrari sta bene no se Ferrari sta bene farei giocare Ferrari però Cernigoni ha giocato bene no ma diamogli non possiamo dire come Paolo mi è un grande amico ma io non posso triticare Cernigoni in questa partita che ha fatto due gol ma non si critica Cernigoni è che puoi avere dimensi ma non si deve dire niente in questa partita non si dice niente Cernigoni perché ha fatto due gol dieci Riccardo comunque la premessa è stata fatta ho detto che comunque i gol li ha fatti facciamo una valutazione complessiva non ha fatto questa partita eccellente e scusami tu ieri eri in collegamento dallo stadio hai detto la stessa cosa che ho detto io questa sera quindi adesso 24 ore di distanza hai cambiato versione no no io ti ho detto che Cernigoni non ha fatto però nel momento in cui si parla di Cernigoni quanto gli dai dieci perché ha fatto due gol io non gli do dieci io gli do sei e mezzo perché ha segnato due gol allora in questa sedia hanno vinto la classifica dei cannonieri Zapparo della Reggiana e Rolfini dell'Ancona che erano soprattutto Rolfini uno sconosciuto per questa categoria però poi è vero quello che dice anche Riccardo conta è il tabellino conta i numeri hai visto altri giocatori di prospettiva in fase offensiva? no devo essere sincero quest'anno mentre l'anno scorso avevo notato una maggiore qualità ma non faccio il solo discorso la Serie C i campiani stanno scendendo di livello non faccio questo discorso quest'anno un pochettino un pochettino meno ho notato qualità ma un po' in tutti i reparti tanto per dire l'anno scorso avevo preselezionato 30-40 calciatori pronti secondo me in qualche maniera per fare il salto di categoria qualcuno l'ho portato qualcuno l'ho portato ad Ascoli qualcuno ha fatto un percorso straordinario come Gatti però voglio dire quest'anno ho fatto un pochettino più in fatica ad individuare dei giocatori pronti per il salto di categoria questo è un po' in tutti i reparti è un fatto problema quando si sostiene che nel Gironi A si gioca di più a livello tecnico nel Gironi C di meno chi è bravo è bravo anche queste sono generalizzazioni classiche di ogni anno che si fanno la Serie A la Gironi A è più forte il Gironi B io credo così che la configurazione di Gironi più o meno è sempre la stessa sempre con 4-5 squadre di cui 2 si staccano dalle altre la composition è sempre quella con 2-3 che si staccano dal fondo e poi le altre c'è grande lotto e grande agonismo c'è meno intensità agonistica nel girone A ma per una questione di tradizione di ambiente perché è chiaro che andare a giocare ad Avellino Foggia Palermo Catanzaro e Catania non è la stessa cosa che andare a giocare a Renate o ad Albino Leff questo è evidente però poi alla fine la qualità è media è la stessa prima di entrare nel vivo di Pescara Gubbio prima di andare in pubblicità una breve parentesi che riguarda un personaggio dello sport abruzzese che ci ha lasciato negli ultimi giorni cordoglio nel mondo del basket per la scomparsa nelle ultime ore di Cesare Moscianese ex coach della Max Meyer Pescara che nel 1970 portò la squadra la promozione in Serie B una lunga carriera quella di Moscianese che ha scritto la storia della palacanestro cittadina vorrei un breve ricordo di Paolo Toro che ha scritto anche degli articoli ecco proprio questo sul centro se ne va un pezzo proprio importante della storia pescherese l'ha ricordato Marcello Perazzetti i suoi ex allievi Lestini Negri Soli e tanti altri l'hanno ricordato un po' tutti e non poteva essere diversamente Moscianese mi ricordo allora io per un periodo ho giocato per un breve periodo ho giocato nel settore giovanile lui mi ha allenato poi quando ho allenato ho cominciato ad allenare immediatamente dopo lui era il capo allenatore e io allenavo diciamo le giovanili e ci collaboravo in quel senso ovviamente parliamo di una gran brava persona dal punto di vista tecnico è stato quello che ha fatto crescere la palacanestro da una allora ricordiamo erano i tempi del Florida si giocava all'aperto quindi campi in asfalto non c'è il lusso che c'è oggi tra virgolette proprio in seguito alla vittoria sua in Serie B otteniamo il primo capannone che oggi è il Pala 40 che è a fianco al Pala Elettra diciamo e quindi dicevo è stato quello che ha gestito il principale protagonista del punto di vista tecnico dello sviluppo della palacanestro di Pescara che era in Serie C è subentrato in un paio d'anni è riuscito a conquistare la Serie B dove poi è rimasto per 6-7 anni ha continuato fino al 76-77 credo l'ultimo anno proprio nell'ultima foto che abbiamo visto quando la squadra era diventata da Max Meyer era diventata AEO e poi ha lasciato e diciamo si è distaccato molto dal basket per dedicarsi ovviamente totalmente all'attività di commercialista che lui svolgeva sempre parallelamente dal punto di vista umano dal punto di vista personale veramente una brava persona che a me ha insegnato tanto ma che ha insegnato tanto anche ai tanti giocatori che ha avuto a disposizione che gli sono stati anche per quelli che ho potuto sentire personalmente molto riconoscenti per il lavoro che ha fatto un abbraccio ovviamente ai familiari condoglianze da parte di tutto il mondo sportivo pescarese prima di andare in pubblicità c'è un'altra nota perché venerdì sei mani di Pescara questa è una nota non di sport ma che riguarda ovviamente sportivi ci sarà un concerto con Antonello Persico che canta De Andrè ingresso libero ed ogni donazione sarà devoluta all'associazione Agbe appuntamento alle ore 16 presso l'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara con la voce di Antonello Persico pubblicità e poi entreremo nel vivo di Pescara Gubbio a tra poco Notti d'oro in corso Umberto I 310 a Montesilvano ha aperto un nuovo store di oltre mille metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali Dorelan Dorsal Simons Manifattura Falomo inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi Noctis Le Comfort Samoa da Notti d'oro conviene Notti d'oro Corso Umberto I 310 Montesilvano Noctisilvano Noctisilvano DZ DZ Insurance Sport DZ Insurance Sport oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport prodotti altamente mirati per atleti professionisti un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale questa è la DZ Insurance Sport Zampa Corta assicura lo sport dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali interni ed esterni in tutta Italia realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere ristrutturazioni chiavi in mano attività commerciali impianti sportivi impianti idrici ed elettrici arredamento su misura controsoffitti e cartongesso isolamenti termici ed acustici strutture esterne per gotende e tetti in legno arredo urbano in genere su tutti i social trovi sempre online le nostre novità contattaci su timerevestimenti.it salve sono Emilio De Florentis l'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio da quel momento da 72 anni la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara la sede in via Spaventa nella zona dello stadio triatico Emilio e Alfredo De Florentis 085 66 021 Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500 500X Panda Tipo ed il ritorno del mito la nuova 124 Spider e poi lancia Abarth e veicoli commerciali inoltre la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali la concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara con ingresso in via Raffaello 30 aperti anche il sabato mattino e pomeriggio ore 22 e 4 minuti torniamo in diretta Andrea novità da Bergamo? No non me ne sono Sanitana sempre avanti 1 a 0 a Bergamo ma più volte vicino al raddoppio Musso sta tenendo in piedi l'Atalanta a te Allora questa partita di mercoledì ricordiamo alle ore 20 e 30 con il Gubbio in cosa sarà diversa allora chiedo un po' a tutti rispetto alla partita di ieri come previsione Lupo? La Carrarese gioca con più con più ordine più occupa un pochino meglio gli spazi nel 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 campo è distribuita meglio la il Gubbio soprattutto fuori casa fa partite prevalentemente difensive si si abbassa per ripartire quindi è una squadra che è un pochettino più complicata da attaccare è vero che nei primi minuti il Pescara con la Carrarese ha trovato subito gol ecco con il Gubbio aspettiamo una squadra rognosa che aspetterà molto per poter per poter ripartire e far male ecco la partita di ieri può servire al Pescara per capire a cosa si fa incontro cioè le difficoltà che ha che ha incontrato ieri che potrebbero ripresentarsi contro contro la squadra di Torrente no Walter c'è pericolo scampato quindi oddio Zauri non c'era ma con con il Gubbio che in effetti Fabio ha ben descritto è la partita non a caso sono le partite che hanno esaltato Clemenza il tiro da fuori comunque l'uomo che arriva per concludere scusami se ti interrompo sarà più difficile far gol al Gubbio o alla Carrarese sulla carta è più difficile far gol al Gubbio però in campionato il Pescara il Grimaldello l'aveva trovato perché gli ha fatto gol sia all'andata che al ritorno il problema è che poi se gli dà il contropiede il Gubbio secondo me è molto più velenoso della Carrarese quindi non gli devi dare il contropiede quindi devi gestire come si dice lo spazio dietro la squadra la devi accorciare e devi sapere che è un avversario che ti potrà anche concedere spazio sui 30 metri ma negli ultimi 20 è complicato entrare prima di questi playoff sosteneva che le insidie maggiori erano le prime due partite perché poi la squadra poteva sciogliersi o trovare probabilmente meno difficoltà lo dicevo prima all'inizio nei 180 minuti tu Paolo che chiave di lettura dai a questo pensiero secondo me sono importanti le prime due partite perché si cambia completamente clima si passa chiaramente da un clima nel quale si può c'è tempo per recuperare invece a giocare delle partite da dentro fuori per cui sicuramente dal punto di vista psicologico è una cosa completamente diversa che merita di essere affrontata con un piglio diverso rispetto alle partite del campionato cosa che non si è vista nella partita nel pericolo scampato nella partita con la Carrarese quindi io mi auguro che questo primo questa prima partita che è andata bene tra virgolette dal punto di vista del risultato ma per il resto ha lasciato abbastanza desiderare mi auguro che possa aver sortito qualche effetto positivo non so se può rappresentare un alibi ma molti sostengono che le grandi squadre soffrono contro le piccole quelle che ti fanno giocare poco non è il caso però di ieri della Carrarese perché non ha speculato sul risultato se l'è giocata no no la Carrarese ha giocato però nei 180 minuti il Pescara troverà squadre sicuramente più potate quindi questo discorso potrebbe essere inerente al Pescara guarda il Pescara anche se lo dicono diciamo all'interno della società i tecnici i dirigenti contro le squadre diciamo meglio strutturate cioè che giocano di più a pallone che non pensano solo e prioritariamente a difendersi dovrebbe essere più preparato dovrebbe essere più pronta tant'è vero che poi in campionato le partite forse le migliori le ha fatte con la squadra quindi questo potrebbe essere il fatto dei 180 minuti si ho capito però con il Cesene vinto però già ne vanno ai perdi no appunto dico superata superate queste prime due partite come come tutti è un discorso valido o no questo fammi quello relativo al fatto di le prime due partite sono più complicate sì sono più complicate magari da un punto di vista emotivo perché pensi di avere un avversario alla portata quindi hai comunque psicologicamente la sensazione di avere il vantaggio di giocare in caso i due risultati su tre quindi sono un pochino complicate il problema è che poi via via che tu continui a giocare a parte quello ma poi incontri squadri che sono più freschi di te che hanno valori uguali ai tuoi e che stanno e tu arrivi a queste partite con un carico con un sovraccarico nella testa e nelle gambe che spesso rappresenta uno svantaggio non è un caso adesso vado un po' a memoria non è un caso che nelle ultime da quando sono stati istituiti questo tipo di playoff hanno sempre vinto il campionato le seconde forse una volta ha vinto la terza raramente una squadra che è partita nel primo turno il presidente del Cosenza che arrivò a sesto Cosenza di Braglia l'unico caso particolare però credo che il regolamento fosse differente non fosse questo tipo di regolamento che c'è ero meno squadre Andrea era sostanzialmente questo il Cosenza superò i primi due turni con Gara Secca rischiando anche l'eliminazione al primo turno con la Sicula Leonzio poi superò anche il primo successivo e da lì ci furono le partite andate al ritorno la differenza qual era è che ora si gioca la finale andata al ritorno mentre allora la finale fu secca in campo neutro a Pescara questo forse è l'unico caso altrimenti sempre si fonda una volta ci sta un caso però prevalentemente la regola è l'altra anche perché secondo me è il contrario per il Pescara per il Pescara era meglio la partita secca specie con quelle squadre più grandi Stefano tu come la vedi questa valutazione di Zauri è chiaro che io sono abbastanza d'accordo con Lupo insomma che credo l'aspetto mentale sia un po' un'insidia per il Pescara nel senso che hai comunque degli avversari che arrivano a giocarsi la qualificazione anche con una certa leggerezza mentale con entusiasmo insomma da una piccola realtà come Gubbio dopo aver fatto un buon campionato è un risultato storico è un risultato storico d'altro sì è il punto diciamo più alto anche a livello diciamo di passaggi di turno per il Gubbio mentre tu invece sei un po' al minimo sindacale è una stagione con tante scorie negative sul piano mentale arrivare se dovessi arrivare avanti insomma fino in fondo ci sono squadre che sono attualmente in ritiro stanno facendo una preparazione mirata arrivano fresche oggettivamente il Padova addirittura è il ritiro in Francia sì 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 perché c'è un c'è credo il presidente c'è un socio del Padova faccia parte del esatto proprietà andiamo a sentire un attimo Torrente dopo la partita con la Lucchese ci abbiamo dei giovani bravi durante il nostro percorso quest'anno hanno fatto hanno fatto bene oggi ho scelto qualche giocatore più esperto ma sicuramente la prossima può giocare anche qualcuno più giovane per la freschezza e per la spensieratezza che hanno per le loro soprattutto qualità avevamo tutti da perdere soltanto noi perché avendo due risultati a favore c'era il rischio di compromettere la partita anche questo un po' di inconscio di ansia da parte dei ragazzi c'era soprattutto nel primo tempo questo è un problema che non avrà mercoledì no infatti dobbiamo dobbiamo soltanto ci abbiamo soltanto risultato e quindi dobbiamo giocare con intelligenza ma usare sicuramente qualcosa in più adesso dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose perché fra pochi giorni rigiochiamo rigiochiamo di nuovo che che è pescara pescara è ufficiale l'ho già vinto da tre ok e fa lo stesso sì pescara in terra fa lo stesso fa lo stesso diciamo che la differenza sono due squadre che all'inizio della stagione puntavano alla promozione la differenza è il campo è il blasone il campo il campo è sintetico e questo non è un vantaggio più per gli altri mentre a pescara giochiamo contro il blasone un stadio bellissimo contro una squadra forte però ci sono tutti gli stili tutte le motivazioni per far bene noi di solito con queste squadre durante l'anno abbiamo fatto sempre bene speriamo di far bene anche mercoledì ci troviamo sicuramente beh certo a questo punto non è che vogliamo vincere che ci andiamo a fare giustamente che vengono a fare giocare contro il blasone è un motivo in più per le altre squadre sì assolutamente sì soprattutto quando non hai nulla da perdere come il gubbio perché se arrivi così come è stato anche per la carrerese che la giochi serenamente dai il massimo la responsabilità è più di chi invece come il pescara ha blasone è anche un vantaggio così che tutti gli riconoscono e psicologicamente l'approccio è più complicato quindi anche per questo sono più complicate le prime partite sì sì ma sotto questo aspetto qui ho dato ragione a Zauri certamente da un punto di vista mentale per una squadra come il pescara le prime partite sono complesse per questa componente psicologica però poi lo diventano perché c'è una componente fisica che vada a gravare lo stato generale della squadra Riccardo sorridi perché già sai che il pescara passa il turno e quindi sono problemi difficili che giochi male e passi il turno poi arrivi al terzo turno giochi bene e vieni eliminato hai già dato la sentenza se giocano così sì assolutamente te lo dico se giocano così se giocano così si col dubbio passi poi incontri una squadra che ti fa giocare un po' di più giochi magari anche un po' meglio ma non passi il turno che allenatore è torrente Fabio? un allenatore che all'inizio della sua carriera così soprattutto poi quando era a Bari sembrava avviato di una carriera una carriera differente lui aveva un po' come un marchio di fabbrica questo 4-3-3 abbastanza applicato difensivo che ti ripartiva poi si è un pochettino perso adesso ha ritrovato una sua serenità un suo equilibrio a gubio poi è un allenatore che abbina una grande esperienza da calciatore ha una buonissima esperienza anche da allenatore quindi anche in grado quale soffriamo? anche in grado di quelle che partono veloce noi sì sì ma poi le sue squadre hanno quel tipo di caratteristica anche agonistica avete notato uno Zauri diverso rispetto a quello di due anni fa Paolo Stefano e l'altro Paolo? sostanzialmente no molto molto prudente molto un allenatore che parla poco preferisce parlare poco non fa proclami molto quindi molto misurato e credo che questo poi si rifletta anche nel modo di gestire il gruppo però di differenze sostanziali quello che ricordavo e a livello di gioco Stefano? sicuramente aveva insomma una qualità maggiore a disposizione tra l'altro insomma era una squadra che aveva potuto plasmare lui fin dal ritiro aveva trovato insomma con la chiave di volta con Machine in stato di grazia anche Galano e Galano soprattutto che ha fatto diciamo la migliore stagione negli ultimi anni proprio sotto la sua guida ecco ed era un pescara che aveva fatto anche delle belle partite aveva fatto anche delle buone gare io onestamente in queste gare insomma che ho visto sotto la gestione Zauri non ho visto una particolare impronta tattica dal suo punto di vista cioè da questo punto di vista anche lui dalle dichiarazioni insomma sembra quasi dire a volte insomma lo ha ribadito proprio esplicitamente in più occasioni insomma noi siamo questi questa è la squadra e si cercherà insomma Paolo ma guarda è un allenatore giovane io forse l'ho visto meno evoluto di quello che pensavo rispetto a qualche anno fa qualche anno fa nella metà campionato più o meno che aveva fatto aveva lasciato un segno tanto che diciamo tutti gli allenatori che erano venuti dopo avevano quasi tutti deluso o comunque reso loro come allenatori al di sotto di Zauri io credo che è ancora troppo presto per dirlo perché è un allenatore giovane però forse tutto sommato non è il caso di fare il paragone con Torrente che sia un po' arenato però ho l'impressione che la sua crescita è stata più lenta di quello che pensavo e poi c'è un piccolo particolare che magari non conta nulla rispetto al campo perché nel campo contano la tecnica la tattica la fisicità ma anche la conferenza stampa di ieri mi ha reso uno Zauri un po' più nervoso del solito un po' meno diplomatico del solito sembrava quasi che fosse o si sentisse attaccato in conferenza quando tutto sommato il turno l'aveva passato questa è la mia impressione non conta questo sull'aspetto a chi rimpiange Auteri cosa ti senti di dire tu sei tra quelli no Auteri per me poteva rimanere o andare via cambiava nulla molto del suo per farsi mandar via questo non toglie che la società ha sbagliato nettamente i tempi dell'esonero perché ha messo Zauri per poter fare qualcosa di significativo doveva arrivare terzo allora voglio dire cambialo prima Auteri però Zauri qualcosa di grave lo ha sbagliato subito cioè adesso non dico che dovevi scimmiottare Oddo e portare la squadra a Piazza Salotto per la rifinitura ma vuoi ricreare l'ambiente e apri quei cavoli di cancelli che adesso non c'è più neanche il discorso sanitario apri quei cancelli fa familiarizzare qualche tifoso che magari racconta a casa ma magari non ci andava nessuno però crea i presupposti affinché si possa creare un minimo di ambiente ma anche qualche discussione animata durante l'allenamento il clima si crea così e a questi livelli il clima vale di più che a San Siro Riccardo che c'è? Sbuffi Senco il primo Zauri velocemente il primo Zauri ha plasmato la squadra ha fatto bene e poi è andato via per il Muglielo come se era in piaggio Auteri no ma questo Zauri è arrivato che ha trovato una squadra già fatta in un momento truciale apri le porte e li porti in Piazza Salotto Walter no mi parla degli allenamenti ma sì gli allenamenti ma secondo me è arrivato anche con un po' di ansia di prendere una squadra cercare di capire quella che devi combattere l'ansia ho capito devi combattere ma non è di arrivare l'ansia come la combatti creando un clima un attimino più coinvolgente ma magari ma magari sta cercando anche di triarlo poi magari non funziona non è una sì però Zauri vi dite che non ha fatto nulla secondo me non è vero lui sta lavorando però non è un allenatore di impatto è un allenatore che deve avere i suoi tempi per costruire la squadra quindi ci vuole tempo e ti tirò di più io visto che credo che lui voglia rimanere per il prossimo anno non vuole fare male e quindi sta cambiando il meno possibile e sta andando su quegli automatismi che già ci sono e quindi per me perché se no se si brucia che viene eliminato al primo turno via Zauri dentro un altro visto che lui secondo me ambisce a ripartire l'anno prossimo sta è una mia vedremo come andrà a finire Fabio Lupo però Zauri è un buon allenatore Zauri è un buon allenatore però deve prendere una squadra tutti sono buoni allenatori però sono sempre i risultati lui è un buon allenatore lui degli ultimi 6-7 quello che aveva lasciato il migliore ma ha costruito la sua squadra per equilibrio diciamo il comportamento aveva dato un bel equilibrio alla squadra si è preso una bella patata Zauri ha fatto sempre bene Fabio allora prossimo anno cosa bolle in pentola per per lei sicuramente lei e lei cosa cercare dopo le ultime esperienze molto belle Mara quella di Ascoli per come si conclude ma ricerco onestamente creare un rapporto sereno diretto con una proprietà che non sia mediato da mille personaggi che ruotano intorno e si intrufolano nella quotidianità e vanno ad alterare vorrei pagare per errori miei e non per errori imposti da altri cerco soprattutto la qualità del rapporto la qualità del rapporto umano perché poi da quello dipende anche la qualità del lavoro da un punto di vista professionale so che sto chiedendo qualcosa di quasi impossibile viste le dinamiche ormai all'interno delle società di calcio sia quelle italiane sia quelle con proprietà straniera continuo a crederci se mi piacerebbe trovare questo tipo di realtà che poi sta diventando un po' un'abitudine in tutti i club avere personaggi che interferiscono e danno anche delle colpe ovviamente ad altri quando invece come dici tu sbaglio con le mie idee e pago io la chiamo la corte dei miracoli che ognuno dei presidenti ha intorno a sé ognuno di loro ha sempre una soluzione ha sempre un'alternativa ha sempre qualcosa da doverti rimproverare da doverti suggerire la differenza fra noi e l'allenatore che l'allenatore viene giudicato per i risultati all'RS dei Conti viene giudicato per i risultati il direttore sportivo spesso viene giudicato magari per un acquisto sbagliato anche a fronte magari di una di una classifica positiva o di altre situazioni quel giocatore poteva essere pagato viene attaccato sempre in mille modi onestamente è un mal costume andrebbe combattuto comincio a avere qualche dubbio di riuscire a vincere questa battaglia in questo anno calcistico come come ha lavorato Lupo per centrare dell'esperienza di Ascoli intanto sono contento che l'Ascoli stia facendo quello che sta facendo perché comunque è una squadra costruita bene a mio giudizio la classifica lo dice lo dicono anche il rendimento di determinati giocatori l'altro giorno ho mandato un messaggio a Sabiri per esempio anche al quale avevo detto lui voleva andare in Arabia Saudita e io gli dicevo non è il momento non è il tempo di andare tu devi provare ad andare a giocare in un top campionato in Europa perché hai le qualità devi far scattare qualcosa dentro e lui mi ringrazia quindi anche quell'equilibrio lì di gestire determinati giocatori quindi sono contento di come sta andando l'ascoli perché il mio lavoro di riflesso è stato messo in risalto poi per il resto chiaramente come ti speravo questo piazzamento nei playoff ci speravo perché la squadra aveva nelle sue potenzialità questo tipo di risultato quindi un gran lavoro anche da parte di Sottili assolutamente sì ma diciamo infatti sarà fatta una squadra costruita proprio sulla base delle esigenze di Sottili anche sulla scia di quello che avevano fatto di buono anche nell'ultima parte del girone di ritorno dell'anno scorso quindi questo equilibrio questo mix fra ciò che era rimasto e ciò che è stato portato ha determinato il risultato dell'asco poi per il resto come ho sempre fatto in questi mesi ho girato anche se ultimamente solo ultimamente perché poi la pandemia ti ha condizionato ho condizionato tutti quanti però ho seguito moltissimo tutti i campionati anche europei come sempre si fa esperienze all'estero non ne hai in mente no? ce l'ho ce l'ho mi piacerebbe molto perché l'unica esperienza che ho fatto all'estero è stata da un punto di vista umano poi è finita con una retrocessione ma per tante regioni così però dal punto di vista dell'esperienza è stata straordinaria ogni tanto devo essere sincero ogni tanto arriva qualche richiesta dall'estero qualche voglia di dialogare questo mi favorisce un po' il parlare un inglese assolutamente insentibile ma che è sufficiente per farmi distinguere da qualche mio collega perché il Pescara non ha mai messo gli occhi addosso su Fabio Luvolo chiediamo sempre però sta qui ma non c'è ma mica solo con lui perché il Pescara in questo anche la piazza non aiuta la società qualche tentativo con personaggi non deve aiutare la società la società che sceglie no beh no in questo caso cioè paradossalmente la società è più permeabile di solito con Sebastiani un po' di meno ma di solito la società è più permeabile agli umori quando si parla di direttori sportivi a livello di quadri intendo dire non di giocatori e che Pescara Pescara c'è il naso è inutile dircelo Pescara difficilmente si è disposti a perdonare qualcosina se poi è uno col quale magari rischi di vederti la mattina al bar ancora di più ancora di più questo è un limite qualche volta è stata anche una forza di questa città quello di sposare certe cause di sposare certi personaggi di farli di coinvolgerli perché tanti rimangono perché alla fine se si crea se si crea il feeling con Pescara poi è difficile sgaggiarsi però ecco con i suoi figli è molto severo io adesso me ne vengono in mente 4-5 non li cito però ecco però cito qualche esempio storico il compianto Vincenzo Zucchini e anche Bruno Nobili per fare due nomi storici che arrivati qua sono stati messi nel dimenticatorio dopo sì però la piazza non aveva mai smesso di vedere in loro qualcosa di più che non un giocatore che passava e loro hanno vissuto la città in una maniera diversa per cui alla lunga sono tornati a Gallo poi nel calcio ci stanno le stagioni se arrivi nella stagione sbagliata puoi essere perché siamo in chiusura questo è un momento storico per il calcio pescarese un brutto momento altrimenti sono cicli positivi cicli negativi il secondo gruppo sta finendo anche per sua volontà o per altre problematiche anche il ciclo di Sebastiani non so certamente è un momento difficilissimo anche dal suo punto di vista perché non credo che sia facile per lui gestire questo momento anche se poi mostra questa scorza dura però io l'ho sempre detto mi sono a riconoscere a Daniele di aver fatto comunque in passato un grandissimo lavoro negli ultimi due o tre anni così rischia di guastare quanto di buono quanto di buono ha fatto certamente potrebbe essere questo il momento giusto per lui per dare un'opportunità agli altri e tirarsi fuori perché credo che poi alla lunga si apprezzerebbe molto di più il lavoro che Sebastiani comunque ha fatto per il Pescara creando comunque un'identità anche all'estero all'esterno come settore giovanile come immagine come anche capacità di andare a prendere giocatori di un certo tipo i giocatori che sono passati da qui le ultime due o tre annate sono state negative e questo rischia di guastare se non è quello che di buono di buono secondo me ha fatto risposta è flash cederà il Pescara Sebastiani Walter se trova chi paga il prezzo che dice lui lo cede in qualunque momento il problema è capire che prezzo vuole quindi secondo te no secondo Paolo Toro secondo me sì secondo te sì secondo Stefano non a breve cioè che significa non a breve cioè non è l'immediato non sarà un'operazione che andrà in porto nell'immediato a questo punto Paolo? No Riccardo? Assolutamente no Allora prima di chiudere mandiamo un particolare saluto alla signora Donatella La Monaca in Danolfi perché questo nome? Perché ha compiuto 84 anni e da 41 anni è la regina della cucina presso il ristorante La Paranza Pescara noto ritrovo di sportivi e nonne la signora Donatella è la cuoca più anziana d'Italia dopo una vita di sacrifici di rinunce soprattutto dopo la scomparsa del marito Raffaele classe 1938 continua a dirigere Fornelli ed è un esempio per i figli Maurizio che abbiamo visto inquadrato nella foto Sergio Paola e Massimo auguri alla signora Donatella da parte di tutti noi Assolutamente Eccoli qui Allora Andrea è parziale dobbiamo chiudere qui non daremo il finale di Allora ha pareggiato ha pareggiato l'Atalanta ha finito anche il Cech ha pareggiato con Pasaric all'89 dunque 1-1 al momento tra l'Atalanta e Saria l'Italia a te mercoledì appuntamento alle ore 20 alle ore 20 per la partita alle 20 e 30 assolutamente sì poi la partita alle 20 e 30 vi trarremo compagnia fino al post match come nostra abitudine a te grazie a Fabio Lupo in bocca al lupo per la tua carriera grazie a Walter Nerone a Paolo Toro a Stefano Buda a Paolo Sinibaldi a Riccardo Clinco ringrazio Loris Benata alle telecamere Maurizio De Gui in regia con Replay ci rivedremo lunedì prossimo grazie per il Cicelto grazie a tutti